bella a tutti i miei slimes qui al bentornati nel mio canale eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare cinga di rondo da sosa e simba larue come sempre prima di cominciare so che sono ripetitivo ma dovete impararlo a memoria mi piace commento se non lo siete iscrivetevi al canale e se lo siete già e quindi siete degli og attivate la campanellina questo venerdì è uscita la canzone insieme al succo di zenzero 2 io ho preferito dare precedenza a quell'album il video è uscito ieri lunedì quindi reatteremo anche a quello che dire di rondo in questo canale abbiamo già avuto modo di parlarne in più occasioni bene o male sapete quello che penso se non lo sapete trovate in descrizione qualche reaction che ho fatto di simba invece non ne avevamo mai parlato e vi dico la verità questo video lo faccio più che altro per lui perché volevo un attimo discutere con voi di quello che è il mio pensiero di questo ragazzo vi accenno qualcosina mi sono ascoltato un paio di canzoni e devo dire che non è per niente male ok a cattiveria attitudine sarà pare e quindi ci sta ci sta mi incuriosisce ci vedo del potenziale senza perdere troppo tempo io andrei subito con il video che annuncia l'inizio dello sfogo annuale sancito dal governo la notte del giudizio oh chicago vibes ma questo erano snippetti madre la cosa che si nota sin da subito è che questo pezzo a differenza degli altri di rondo ha più quelle influenze di chicago drill piuttosto che della uk non che abbia fatto solo pezzi uk drill però ultimamente uscivano molte robe in quello stile invece questa cosa io personalmente l'ho apprezzata un casino perché la drill di chicago mi sta molto più a cuore della uk drill anzi vorrei aprire una piccola parentesi mi ha rotto il cazzo ma non tanto la uk drill quella che si fa in inghilterra ma questo modo che ormai c'è di portarla in italia è scopiazzato è già visto non è originale è banale cosa fanno i rapper italiani semplicemente prendono quel flow e ci cantano in italiano però secondo me è una cosa del tutto inutile o meglio pochi la sanno fare per bene il 95 per cento della roba che esce è spazzatura quindi non andrò a mentire vi dico che il pezzo non mi è dispiaciuto per niente questa è probabilmente la cosa che mi è piaciuta di più il beat è stato fatto da henke yo che comunque ha già prodotto diverse robe con rondo e come produttore secondo me non è per niente malvagio prima che mi dimentico cosa significa cinga da quello che ho capito deriva dallo slang proprio della uk drill e si indica con questa parola il rumore che fa il coltello quando buca il corpo in generale proprio l'atto insomma della persona che ha coltella qualcun altro per il resto penso che la strofa di rondo sia stata anche spolerata dallo stesso rapper in qualche diretta instagram perché non mi era nuova vabbè che le sue canzoni il 50 per cento sono bar che ha già detto però l'attacco specialmente lo avevo già ascoltato comunque non mi è dispiaciuto neanche lui cioè ci sta secondo me preferisco molto di più che i rapper cerchino di portare in italia quel sound drill di chicago piuttosto che la uk drill anche perché secondo me è una canzone del genere comunque in un certo senso è anche più originale di una fatta con il flow uk drill sul beat uk drill invece per quanto riguarda simba essenzialmente confermo tutto quello che ho detto nell'intro mi piace mi piace secondo me questo qui è davvero forte ha fatto due attacchi a mio avviso uno più forte dell'altro e in generale in tutta la canzone l'ho preferito a rondo ma probabilmente perché lui già come rapper mi piace di più insomma di rondo anche lui per quanto sentito si rifà molto allo stile uk drill sia magari nel flow che nei testi però a mio avviso ci mette qualcosa di suo o meglio quel tipo di stile è riuscito a farlo suo perché alla fine ci mette un'attitudine pazzesca perché quando canta è proprio cattivo si è sentito anche in questo pezzo ma mi viene in mente opinel poi certo usa slang come per esempio buco tuo padre che è una cosa comunque ripresa totalmente dalla uk drill però ripeto riesce a farla sua come cosa e quindi anche in questa strofa mi è piaciuto davvero tanto e che dire sono in hype per lui cioè aspetto un suo album voglio capire effettivamente quanto è forte questo ragazzo poi se vogliamo parlare del video è molto carina questa idea di riprendere un po' quello che è la notte del giudizio i film c'è tutta una trilogia ma forse sono pure più film in cui essenzialmente per una notte puoi commettere ogni tipo di crimine appunto anche l'omicidio puoi combinare il devasto e poi il giorno dopo è tutto a posto cioè una notte all'anno così quindi mi piace questa idea perché comunque il video ne è uscito figo e c'è stato anche un bel lavoro dietro e soprattutto anche perché si sposa poi con il mood della canzone che è chicago drill e quindi guerra in poche parole detto questo credo che possiamo finire qui è un periodo in cui come potete notare stanno uscendo un bel po' di reaction ma perché sta uscendo tanta musica anche in italia stiamo inizio anno ma per esempio questo venerdì esce il mixtape di slf e non vedo l'ora di reactarlo chiaramente torneranno anche i video in cui parliamo di rap americano di rapper anche reaction americane cosa ne pensate di questa canzone vi è piaciuto di più rondo o simba siete in hype per loro due qual è il vostro pensiero lasciatemelo con un commento qui sotto se il video vi è piaciuto chiaramente vi invito a lasciare un mi piace ma se siete furbi l'avete già lasciato inizio video se non lo siete iscrivetevi al canale ma anche in questo caso se siete dei veri dogs dei veri cazzo di cani l'avete fatto ad inizio video così come attivare la campanellina qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social le mie playlist mi raccomando seguitemi un po' ovunque per rimanere aggiornati su ogni discorso del canale condividete questo video con quanta più gente volete potete noi ci vediamo ad un prossimo slè iscriviti al canale